musica salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video oggi siamo tornati su anime battle 1.8 iniziamo subito one pay e facciamo arcade ehhh... beh, new game, intanto mi pare che è la stessa cosa andiamo in modalità facile, tanto sappiamo che ci sfondano anche in modalità facile allora, come personaggio oggi voglio farvi vedere lui perchè ho visto che è abbastanza forte cioè, sono riuscito a battere uno con lui è un successone devo cercare di ricordarmi i comandi perchè non mi ricordo più niente zero allora, con A è dicissimo quella, chi è sto tizio? boh, so solo che io sono il più buono di tutti perchè... perchè ho la spalla da fuori qui ci vuole... oddio, becca tutta la spallera! ed eccoci qui con questo bel tizio che mi sta facendo il pezzo ho preferito tagliare il resto perchè... è stata un'attesa immane, piuttosto... BOOM! no, niente, non l'ho preso aaaah! aiaaaah! cos'era quella roba? non so se si è capito ma ti odio dal profondo del cuore sappilo eh no, tu non mi prendi con quella lurida moto oh, che gli prende? eeeh... niente, non l'ho preso manco lontanamente aiaiaiaiaiai, io odio ste spadate così eeeh... lo prendo a caso Allora, vedi Dai, vieni, zio Guarda come lo sfondo No, 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 mi sta sfondando più lui Aia, 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 no, 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 no Mi ha iniziato a fare le combo Vai, Sasuke, vai, che sei forte No, eh Pam No, ho sbagliato, non ho dato il calcio Entrambi con le spade, insomma È una cosa abbastanza epica Vieni, 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 forza Come here, baby Baby, I'm worth it Aia, 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 no, non era worth it, eh Oh, lo tocco Perché ho fatto questo? Certe volte mi domando anch'io cosa faccio Attenzione, 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 attenzione No, eh, mi ha preso lui Iniziano a fare i maledetti Come per gli altri combattimenti Come per gli altri combattimenti Niente, non l'ho preso Non lo prendo mai Boom, l'ho preso adesso Bella È stata un'epicazione Aia, 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 aia Ti è beccato di questo, piuttosto No, ho sbagliato No, 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 torna giù Cioè, meglio, torna su Boom Ah, ma da dove l'ho preso? È stata una cosa fantastica Ok, 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 mate Oh, cos'era quella mossa? Perché Boh, per un attimo mi si stava buggando il gioco E non riuscivo ad andare da nessun'altra parte Se non a sinistra Ok, finito? Vabbè, fai i gomodi suoi poi Problemi suoi Ed ecco che arriva Sasuke Ok, vai, vai, vai Aia Ci siamo Siamo morti assieme Boom Gay ingenui Aiaiaiaiaiai Minchia, doppio attacco È stato qualcosa di fantastico Boom Mamma da dove l'ho preso? È stato un attacco fantastico Papapapam No, non l'ho preso Perché non lo prendo mai in volo Alleluia Ce l'ho fatta L'ho preso in volo Pam Niente Nessuno di noi Ha preso l'avversario Pum Che bello Non so se è l'avversario Debole o sono io forte Vabbè A furia di farmi fare i pezzi Riuscirò almeno a battere lui Immagino Aiaiaiaiaiaiai Cosa è diventato un operaio In un attimo A caso Boom Eccolo là Eccolo 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 E ma che pro Sì Ce l'ho fatta Sono stato io a fargli il KO Adesso andiamo 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 Che stiamo procedendo bene Manco per idea Vieni 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 Io ti sto aspettando Dall'alto dei cieli Boom Ma che bello Ok Vieni Vieni Niente Niente Va A caso Ok L'ho bloccato Prima che facesse la mossa Vai 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 Niente No 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 Mi ha bloccato E mi ha fatto anche malissimo Sì Che colpo No 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 Cioè guarda Quanto toglie Quella mossa Era una mossa Proprio bestia Dai 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 Vieni vieni Aspetta 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 mate Boom Niente Non l'ho preso Vabbè adesso Lo prendo Oh l'ho preso Di striscio Però Perché sai com'è Viene da strisciare La notizia L'ho preso Di striscio E ci voleva Sta battuta Qualcuno Prima o poi La doveva fare Pam Che calcio In volo Che gli ho fatto Sasuke usa Calcio in volo Boom Niente eh Si passa attraverso Adesso Adesso si passa Attraverso Le canne di bambù Ma perché Si è fatte Tante Cioè sono state fatte Tante canne Ecco perché Quindi è una cosa Tra canne Niente eh Non l'ho preso Maledizione Aia Boom Che bello Sto facendo Una serie di pezzi Assurdi Bam Aia Come mi sono fatto male Sì Sì Signori Sasuke vince Sasuke vince Vai vai Passiamo alla prossima partita Che è Sasuke contro Vediamo un po' Chi sarà il nostro avversario Spero bene Non uno che fa pezzi Assurdi E ci siamo quasi No No Non ci siamo per niente Oh Contro Deidara Eh che bello Dai Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Contro Deidara Ma non so se nell'anime Sasuke si scontra davvero con Deidara Però Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Che poi Deidara Sembra le prese con gli uccelli Dai Dai Divertiti con Con quel bonazzo Di sospiro Sembro tanto gay Mentre dico ste cose Vabbè Teoricamente ovviamente Lungo quanto una vita Eccoci qua Ma Ma proprio io lo prendo seriamente Sto scenario e sta musica Va via Lurido schifo Volante Non è manco volante Pam Gliel'ho annientato Ok Attenzione 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 Boom Che colpo Eeeh L'ho preso ancora Ma non ti lascio fare niente Bru Non so se si è capito Aia Mi ha fatto malissimo Eeeh Fai Bum Si Olè Sono riuscito a colpirlo Prima che lui Facesse qualsiasi cosa Ok Madonna Ma questo Citori Si assurde una bestia Brum Che shot Hai finito di evocare Schifosissimi insetti Hai detto Monti lo sfondo Sto schifo E poi ne parliamo Eeeh Pam Che bello Mamma mia raga Ma sto scontro E' usceno Ho fatto anche 69 di danno Con quel colpo Se mi capite Ok Prossimo combattimento Vai Pam Che colpo Che gli ho dato Dai vieni Vieni Scendi Scendi Eeeh Oh Ho paura Mi zega Che colpo Eh zio E vai 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 Eeeh Adesso Spadone Mmm Lo spadone Bum Ma che bello Mi sto facendo Tutta una serie di danni Senza che lui Mi facesse Quasi niente Oh no esplode Ah no Non è esploso Si E' esploso Qualcosa Aia Così Non mi farai nulla Aia Bum Mo ti sfondo Quell'insetto Schifoso Bum Ho ucciso sia te Sia il tuo insetto Maledetto Deidara Aia 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 Ok ok Ci siamo Ci siamo Aia 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 Mi ha fermato Ah Adesso ti Becchi tutte le mazzate Che devi Cos'era Quella mossa Boh Premuto A caso Ok Penso che sia abbastanza Per oggi D'accordo ragazzi Direi che posso concludere Qui il video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se volete ottenere informazioni Riguardo al gioco Mettete sempre l'hashtag Adobagapoco Ci vediamo alla prossima Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!